ciao super donne come state spero bene io ho appena terminato appena ho dato già la tonificazione c della beauty challenge tostissima di alice ti volevo ringraziare tantissimo perché io faccio parte del tuo percorso dal 24 marzo mi ricordo di aver fatto un mese di prova nel senso che io ho pagato per fare un mese perché giustamente ci propinano miliardi di programmi miliardi di cose sul web quindi sai ci sta anche che uno così no a dubita dice ma proviamo e mi ha stupito in meglio cioè a 360 gradi non credevo mai di trovare un programma così infatti sono passata subito alla god member e sono fierissima lo rifarei altre milioni di volte perché non vi lascio e non ti lascio più alice sono contentissima di tutte le novità che ci sono che ci saranno io non sono mai stata una fissata sul peso mai non mi ha mai fregato niente non proprio zero però comunque ero molto molto goffia ero molto appesantita e nonostante non mangiassi chissà che cosa da quanto ti conosco alice io ho cambiato modo di mangiare mangio mangio bene sto bene sono contenta ovvio ci sta quella volta lì che magari sgari ma il lusso che sia così però sono contenta e sono riuscita a perdere 10 kg è una cosa incredibile cioè non me ne sto neanche accorta quindi mi raccomando ragazze perdone non mollate mai questa è la giusta per star bene nella testa del fisico in tutto e la salute soprattutto che è la cosa più importante quindi grazie alice ti mando un bacio